Merlino, anche se evoca magie, leggende e cartoni animati, in realtà è un piccolo ma serissimo comune della provincia di Lodi, che con i suoi soli 1800 abitanti e le sue regole antimafia sta diventando un modello dei più noti e apprezzati. È tutto merito del protocollo di Merlino, una delle forme di garanzia più severe per prevenire le infiltrazioni mafiose, al punto che è stato approvato anche in altri comuni e ora è all'ordine del giorno di Sergnano, alle porte di Crema, proposto dal consigliere di minoranza Enrico Duranti del Movimento 3.0 e già messo all'ordine del giorno dalla maggioranza del sindaco Gianluigi Bernardi. Il protocollo prevede che le imprese edili, immobiliari, che vincono appalti pubblici o privati, diano al comune informazioni dettagliate. Chi sono i soci, qual è il loro casellario giudiziale, quali sono i bilanci degli ultimi due anni, il numero e l'identità degli addetti che lavorano nei cantieri, quali sono i mezzi di trasporto autorizzati a entrare, con quali numeri di targa, ma non solo. L'amministrazione deve sapere anche chi sono i fornitori degli appaltisti. In generale, tutte le informazioni utili a identificare attività e responsabilità devono diventare pubbliche. Ogni amministrazione poi tende a ricostruire il protocollo di Merlino secondo i regolamenti già in vigore, dandosi dei tempi precisi per le fasi dell'approvazione. Enrico Duranti propone la stessa procedura a Serniano e a tutti i comuni, come già ha fatto nel luglio scorso, il consigliere Emanuele Cotti Zelati di Selva Crema. A Cremona di Merlino sinora non si è parlato, anzi, la mozione di Giancarlo Schifano, prima all'opposizione con l'Italia dei Valori e ora in maggioranza con il PD, è rimasta ferma da due anni. Cremona si è dotata di una commissione trasparenza che si occupa anche di diverse iniziative antimafia, ma la richiesta di Schifano per ora è in attesa. Il consigliere ha chiesto che in caso di subappalto l'appaltista dia al comune tutte le informazioni del caso, con l'obiettivo di far sì che nessuno possa pronunciare la fatidica frase, non potevo saperlo. Enrico Duranti ha preso atto degli arresti effettuati in provincia dalle forze dell'ordine per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Già alcuni anni fa lo stesso procuratore di Cremona, Roberto Di Martino, aveva sottolineato che la criminalità organizzata è inevitabilmente attratta dalla circolazione di capitali e dagli appalti più consistenti.